Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlight's Tube. Oggi è lo Star Wars Day e io mi sono resa conto che non ho mai fatto niente in merito appunto alla saga in questa giornata e quindi mi sono detta quest'anno colgo la palla al balzo perché tutte le volte vi dirò la verità, non tanto per poca voglia ma proprio per dimenticanza, mi rendevo conto che arrivavo al 4 di maggio che non avevo fatto niente. Quindi per quest'anno ho deciso appunto di fare, visto che ormai la serie diciamo di film perlomeno è completa, di fare una bella classifica dal peggiore al miglior film secondo la mia personalissima opinione. Ho visto che questo genere di classifiche diciamo vengono abbastanza apprezzate e niente ragazzi, quindi adesso vi farò appunto questa classifica, comunque vi ricordo che questa è una classifica secondo il mio gusto, la mia opinione e la mia personalissima opinione. Quindi non è che dovete per forza giudicare orocolato quello che dico oppure venire a rompermi le palle, ma no, quello è il migliore, no, è quello il peggiore, no, ognuno ha i suoi gusti ragazzi. E quindi vi prego appunto, anzi, di farmi sapere nei commenti in maniera educata e corretta la vostra classifica dal peggiore al migliore. Quindi ragazzi, bando alle ciance e cominciamo con questa classifica dal peggiore al migliore dei film di Star Wars. Al nono posto, ed è anche appunto il nono film, l'ascesa di Skywalker. Ci sono pochi motivi veramente che posso dirvi perché l'ho messo in questa posizione. Perché appunto quello che ha sminchiato 30 anni di trilogia e che ha mandato a puttane tutto quello che è successo nei precedenti 8 film. È stato un aborto a livello proprio di trama, anche a livello, non voglio dire anche di regia, scenografia, perché quelle ancora si salvavano, ma proprio la storia di per sé fa cagare la merda. Il film ha fatto veramente cagare allo schifo, almeno a me. L'avete vista la recensione? Ve la lascio poi nelle schermate finali, anche perché forse è l'unico che ho recensito, però non lo so e non sono sicura. Ma nella mia recensione potrete capire quanto è stato il mio sdegno nel vedere questo film sputtanare proprio tutta la saga. Non soltanto questa nuova trilogia, ma ha sputtanato tutta la saga. Ha mandato a fare in culo un sacco di sacrifici, un sacco di cose che sono successe e veramente io... È il peggiore, senza ombra di dubbio, è il peggiore tra i film fatti di Star Wars, almeno a mio parere. È una ferita che sanguina ancora, vi dico solo questo. All'ottavo posto invece metto la minaccia fantasma. Ma perché? Perché come episodio primo, ho odiato Jar Jar Binks dal primo momento che è comparso. Non mi è piaciuta la storia. Salvo soltanto Iwan McGregor e Liam Neeson per questo film. E la corsa degli sgusci, credo che siano le uniche cose decenti di questo film. Perché non mi ha dato niente. Non mi ha dato quell'entusiasmo che mi sarei aspettato da un episodio 1. Poi anche a livello registrico, a livello anche di effetti speciali. Cioè boh, poi anche da personaggi di Darth Maul, così c'è anche il suo destino. Boh, non mi ha convinto a pieno. Non è tra i miei preferiti, diciamo. Quindi proprio come episodio 1, forse io avevo anche delle aspettative troppo alte, non lo so, ai tempi, ma anche adesso. A parte la corsa degli sgusci, questo film diciamo che poteva dare molto di più a mio parere. Al settimo posto, l'attacco dei cloni. Perché anche questo, non lo so, Obi-Wan Kenobi con questo taglio da burino che stava malissimo. Povero Iwan McGregor che ha dovuto mettersi quella parrucca. Roba che adesso, appunto, parlando di Obi-Wan Kenobi, adesso il 25 o il 27, no il 27 è slittata. È slittata di un paio di giorni, ma perché faranno comunque i due episodi. Uscirà appunto la serie dedicata a Obi-Wan Kenobi. E avrà di nuovo i capelli così, però adesso sembra più decente rispetto a come l'hanno conciato in questo film. E anche questo, cioè, sinceramente, non mi ha detto niente. A parte alcune cose, cioè, boh, sinceramente questi cloni che poi alla fine sarebbero diventati gli Star Troopers. Abbiamo conosciuto quelli che poi sarebbero diventati i soldati dell'impero. Vediamo Anakin Skywalker andare verso il lato oscuro perché gli muore la madre, è uccisa da questi Tusken che alla fine sono, che poi cambiano sempre, non mi non si capisce un cazzo. Alla fine erano i sabbibodi alla fine della fiera, che poi ci hanno umanizzato i The Boba Fett, quindi, boh, si capisce un cazzo. E vediamo appunto nascere l'amore per Padme, l'onata di Portman, comunque sempre bellissima, che si è impegnata comunque. Comunque, a livello recettivo non posso dire niente, però anche a livello di effetti speciali, ma che cazzo? Ma se poteva avere una vagonata di budget? Non lo so, l'hai speso per gli attori, Giorgio Lucas? Non lo so, veramente. Comunque non è tra i miei favoriti, assolutamente. Cristo Ferlì che fa il Conte Duco, per carità carismatissimo. E non lo so, comunque non mi entusiasma quando lo guardo. Sinceramente lo guardo e penso, ma che sto a guardare? Sinceramente mi aspettavo anche qua. Forse aspettative sempre troppo alte, ma mi aspettavo leggerissimamente di più da questo episodio 2. Naturalmente salvo, ecco, mi sono dimenticata, salvo lo scontro tra Yoda e il Conte Duco, perché è una delle poche cose che davvero vale la pena di salvare in questo film. Al sesto posto metto gli ultimi Jedi, perché anche questo è, diciamo, ha segnato, diciamo, ha cominciato a segnare il tracollo di quella che è stata la nuova trilogia. Non dico che mi sia dispiaciuto, anzi, per carità, rispetto all'ascesa di Skywalker è un capolamoro. E' stato bello, appunto, rivedere Luke Skywalker, perché scoprire, appunto, la trasformazione di Ben Solo a Kylo Ren, vedere, appunto, Snoke, il fatto che cerchi di tentare Rey, tutto il resto, anche se quella cosa lì di Cosry, Poe Dameron, che se ne va, appunto, in giro a cercare questo, questo coso del maestro dei codici, tutto il resto, insomma, sì, è decente, ma comunque, a parte, appunto, Luke Skywalker, che, nonostante tutto, spacca ancora i culi e tutto il resto, non è che è valsa tanto la pena, però, rispetto all'ascesa di Skywalker, diciamo, è più decente, quindi non me la sono sentita di metterlo più in alto, perché, a livello proprio di trama, Rey è un po' un dito nel culo, diciamocelo pure tutto, vale solo per Luke Skywalker e per Kylo Ren, per la sua caratterizzazione, quindi, se no, per il resto, sinceramente, non è tra i film della saga, diciamo, proprio della nuova trilogia, che mi hanno entusiasmato di più. E al quinto posto, sempre parlando della nuova trilogia, metto Il Risveglio della Forza, questo è l'unico che mi è sinceramente piaciuto della nuova trilogia, per questo lo metto in quinta posizione, perché, per quanto stessero cercando di fare un po' un copy and colla di una nuova speranza, perché si vede, ci sono tutti gli elementi che ricordano tanto la nuova speranza, la ragazza che scopre di possedere la forza, l'impero che, anzi, il nuovo ordine che imperde sulla galassia, la ribellione che prende forma, che impariamo a conoscere, e tutto il resto, il villain di turno, Han Solo, sempre fighissimo, e, oddio, scusate, e, quindi, diciamo che, per quanto riguarda l'atmosfera o quant'altro, questo è l'unico della nuova trilogia che si mi è sinceramente piaciuto, sia perché ricordava tanto una nuova speranza, sia anche perché, comunque, si vedeva che ci stavano provando, ci stavano provando a riportarci alle tempi gloriosi di guerre stellari, anche le musiche bellissime, che ricordavano tanto, appunto, la trilogia, diciamo, quella originale, chiamiamola così, il 4, 5, 6, e, soprattutto, anche l'atmosfera e tutto il resto, anche i personaggi, Harrison Ford era proprio sempre lui Han Solo, Han Solo, anzi, scusatemi, e, quindi, di conseguenza, l'ho messo in quinta posizione, perché è quello che mi ha dato più nostalgia, ci hanno provato con quel film, purtroppo, poi, con gli altri due hanno sminchiato tutto. Al quarto posto, invece, metto Il ritorno dello Jedi, perché lo metto al quarto posto? Questo è l'episodio 6, il terzo episodio della saga, quella classica, la trilogia classica, e l'ho messo al quarto posto perché dei tre della trilogia classica è quello che mi ha entusiasmato meno, nel senso, è comunque un film fantastico che va a concludere degnamente, insomma, la storia, prima che arrivasse la trilogia quella nuova. Appunto, Luke Skywalker affronta suo padre, riesce, appunto, a redimerlo, ci sono gli Ewok, questi orsacchiotti nemoniaci, che catturano la gente per mangiarsela, alla fine, e che vengono in un cazzo di robot, vediamo concretizzarsi, appunto, l'amore tra Leila e Han, che poi verrà sputtanato, anche questo, nella nuova trilogia, e quindi, appunto, di conseguenza, però, non lo so, tra la nuova trilogia è quello che, non mi ha entusiasmato, cioè, il finale mi è piaciuto, e anche la battaglia, quella finale, per carità, con tutti gli Ewok che affrontano, vabbè, anche quelle realistiche, affrontano dei soldati corazzati, con sassi e pietre, per carità di Dio, poi ce la fanno, eh, ce la fanno, ce la fanno perché Chewie, ruba un cazzo di robot assassino, di macchina assassina, e li fa fuori tutti, quindi, appunto, di conseguenza, però, è quello che mi ha convinto meno, cioè, quello che mi è piaciuto, quello che riguardo, sì, lo guardo, perché comunque è l'ultimo, però, non provo quel brividino, a parte verso la fine, però, ecco, tipo, vabbè, tra la del Sarlacc, Boba Fett, ecco, l'inizio, devo dire, che è la parte che mi entusiasma di più, poi, andando avanti, a parte il finale, c'è, diciamo, che è tutto bene, quello che finisce bene, ma rimane sempre, comunque, un gradino sotto rispetto agli altri, secondo me. E ora passiamo al podio, al terzo posto, metto proprio il terzo episodio, ovvero, la vendetta dei Sith. Questo, appunto, è stato l'ultimo episodio della trilogia prequel, e devo dire che a me ha convinto tantissimo, c'è gente a cui non è piaciuta, ma invece è piaciuto da mattino, soltanto perché, comunque, c'è un, un Anakin Skywalker, ormai, diciamo, allo stremo, che combatte contro la rabbia, contro l'odio che prova, ma si reprime, e soprattutto combatte contro la paura di perdere Padme per colpa di questi sogni, che io sono quasi convinta che gli mandava Palpatine con il potere del lato oscuro, proprio per fomentare questo suo sentimento di paura, perché la paura conduce all'odio, l'odio conduce al lato oscuro. E appunto, veramente, Eden Crisis è stato veramente molto bravo a trasmettere il tormento di Anakin barra Darth Vader, perché alla fine, se noi proprio ci pensiamo, Anakin è diventato quello che era per amore, ma poi alla fine ha perso appunto la linea sottile che divide l'amore dall'odio, e lui la supera, arrivando poi alla fine anche a proclamarsi proprio padrone del mondo, infatti Padme, poverina, la sofferenza di quella ragazza alla fine della storia, che poi, devo capire, questa ragazza gli avevano messo una pancetta piccola e poi c'erano due gemelli che sono grossi così, come cazzo ci stavano? Comunque, vabbè, un Iwan McGregor che ha dato veramente al personaggio di Obi-Wan Kenobi tutto il carisma che gli poteva dare, anche perché Iwan McGregor ci teneva tanto a fare un buon lavoro in questo ultimo film, perché lui ammirava molto Ale Guinness nei panni di Obi-Wan Kenobi e quindi, di conseguenza, voleva dare il meglio di sé. Adesso poi vedremo della serie a lui dedicata, sono sicura che farà un ottimo lavoro, almeno lui, voglio sperare, io sono sempre puro per la sceneggiatura. Comunque, a me è piaciuto molto, è piaciuto molto, è bello anche vedere il legame che unisce Obi-Wan ad Anakin all'inizio buono e poi va ad inclinarsi, a spezzarsi a causa appunto del passaggio al lato oscuro proprio di Skywalker, quindi, a mio parere, poi l'ultima scena c'è con lui che quando chiede di Padme e Parpata e stronzo gli dice che lui l'ha uccise e lui no, che è diventato leggendario e a me è piaciuto, sinceramente, quindi, me lo metto in terza posizione perché a me ha davvero emozionato e mi ha coinvolto, quindi come terzo episodio secondo me ci sta. Al terzo posto, invece, metto una nuova speranza, l'episodio 4, perché lo metto in seconda posizione, scusate, mi credo di aver sbagliato, l'ho detto giusto? Boh, non mi ricordo, seconda posizione, una nuova speranza, l'episodio 4, ovvero il primo episodio della trilogia classica. perché l'ho messo al secondo posto invece che al primo? Perché al primo c'è quello che mi è piaciuto di più tra tutti i film di Star Wars e quindi di conseguenza questo è il secondo invece che mi è piaciuto perché comunque è il film che mi ha fatto scoprire appunto questo universo, conosciamo Luke Skywalker, Han Solo, la principessa Leia, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, l'imperatore invece no, l'imperatore non lo vedremo fino al secondo film, quindi appunto di conseguenza conosciamo appunto la forza, conosciamo l'universo, conosciamo questa guerra appunto che c'è tra quest'impero galattico e la ribellione, la battaglia poi finale per distruggere la morte nera, la fuga appunto di per sé dalla morte nera dei nostri eroi, quindi era tutto bellissimo, insomma è il film che mi ha fatto scoprire l'universo di Star Wars, però non è da primo posto, perché a primo posto io ne ho un altro, proprio a livello anche affettivo, di conseguenza però è il capitolo che tutti noi amiamo perché ci ha fatto conoscere appunto effettivamente Star Wars e quindi già solo per questo io lo metto al secondo posto anche perché comunque è un film che intrattiene, che coinvolge e che comunque ti introduce in questo diverso fantastico che noi tutti adoriamo. E al primo posto sul podio io metto l'impero colpisce ancora, episodio 5, il secondo della trilogia classica che è quello che ho più nel cuore perché non soltanto vediamo comunque concretizzarsi, anzi nascere l'amore, tra Anne e Leila con quella ti amo lo so e quello so è stata l'improvvisazione nella storia del cinema più bella di sempre perché per chi non lo sapesse Harrison Ford avrebbe dovuto rispondere anch'io e invece Harrison Ford ha improvvisato con lo so, cioè ma vi prego ma date un Oscar alla carriera a quel uomo perché se lo merita solo per questa improvvisazione. Vediamo Luke che comincia ad addestrarsi poi l'addestramento di Luke su Dagobah con questa atmosfera quasi molto cupa quasi da film da film horror con questo pianeta sempre perennemente con la nebbia con Yoda che cerca di addestrarlo ma Luke Luke appunto è diciamo credo forse uno dei pochi Jedi che ha iniziato che non era bambino quindi lui è iniziato comunque che era già aveva più di vent'anni quindi di conseguenza è un po' frettoloso è avventato infatti lo dice anche Yoda e tutto quanto vorrebbe tutto e subito però questo non è possibile poi lui è poi prigioniero anche diciamo in senso metaforico dei sentimenti che prova sia per Han che per Leia quindi appunto di conseguenza questo diciamo che penalizza un po' il suo addestramento e poi vediamo appunto conosciamo qui arriva Lando Carrissian la città delle nuvole C3PO poiché sempre un dito nel culo la donna la fuga di Han Solo e Leia dall'impero che li cerca costantemente perché Darth Vader vuole usarli come esca per attirare Luke Skywalker e poi vabbè ma la rivelazione più bella di sempre no io sono tuo padre cioè vabbè quello già solo il quinto il quinto episodio racchiude una marea di di agglomerati di emozioni e di avvenimenti poi tutti importantissimi che entreranno comunque nella storia della saga e del cinema pazzeschi quindi di conseguenza già solo per questo io lo amo poi anche a livello appunto di storia di film mi è piaciuto veramente tanto e per questo è il mio preferito della saga e fustigatemi pure se voi invece pensate il contrario bene questa classifica dei film di Star Wars dal peggiore al migliore si conclude qui io spero che vi sia piaciuta ragazzi vi aspetto il 27 di maggio qui sul canale per le short review degli episodi della serie Obi-Wan Kenobi poi penso che ci farò o una live o comunque un video in cui vi espongo proprio nel dettaglio tutto quello che penso ma per gli episodi farò comunque le short review come sto facendo con le serie tv quelle che escono appunto settimanalmente il 27 usciranno due episodi quindi farò una short review di entrambi quindi vi aspetto mi raccomando spero che le seguirete vi ricordo come sempre che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale soprattutto seguirmi su Instagram link in descrizione in descrizione trovate anche i link di TikTok e Waywayful se volete farmi una donazione potete trovare il tasto grazie sotto i video e mi raccomando cliccate sulla campanella per non perdervi assolutamente nessun nuovo video vi ricordo poi come sempre che in descrizione trovate i link delle pagine Facebook dedicate a The Walking Dead Kelly d'Italia e The Walking Dead Ita Family Kelly d'Italia salvo imprevisti domani 5 maggio verso le 21 saremo in live con Carol e Martina per parlare appunto di alcune news riguardanti lo spin off di Carol e Daryl quindi vi aspettiamo appunto per parlarne e discuterne ma se non conoscete ancora la pagina e amate The Walking Dead andateci perché potete trovare tante cose belle e bellissime news aggiornamenti analisi degli episodi screenshot degli episodi chi più ne ha più ne metta e poi abbiamo passato su The Walking Dead Ita Family con cui collaboriamo che anche lì potete trovare davvero di tutto news aggiornamenti analisi degli episodi anche lì aree di discussione curiosità dal set curiosità sugli attori immagini meme divertenti insomma che più ne ha più ne metta ragazzi se amate The Walking Dead seguite queste due splendide pagine Facebook se questo video vi è piaciuto mi raccomando mettetemi un bel pollice in su e fatemi sapere nei commenti come c'è la vostra classifica personalissima e fatemi sapere cosa ne pensate della mia insomma confrontiamoci civilmente nei commenti ragazzi vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti e buon Star Wars Day che la forza sia con voi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti